Partita difficile perché la Lucchese è un avversario a Cigno che prestava a tutto campo e ha durato 90 minuti, insomma in pratica è stata una partita più fisica che tecnica, nonostante tutto abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo subito il meno possibile, però parecchio a fine conto è risultato giusto. Sapevamo che era una partita difficilissima, perché la classifica della Lucchese non è quella reale, perché se metti i punti che hanno tolto è una squadra che ne dà metà alta classifica, insomma sono dentro il playoff pienamente, è una squadra che ha dato filo da torcere a tutti, quindi sapevamo che era una squadra difficilissima e tra l'altro sta passando un momento che magari ti spinge a dare qualcosa in più, perché c'è il mercato di gennaio e magari vogliono vincere lì a tutti, i giocatori che stanno lì con la situazione che hanno, secondo me però se andiamo a vedere la partita ai punti, se c'era una squadra che doveva vincere eravamo noi, perché nel primo tempo abbiamo rischiato niente, abbiamo creato due o tre occasioni con il palo di Brunori, il rigore che secondo me era nettissimo, ho rivisto, il primo è lo spogliatoio su sei arrotti, comunque il secondo tempo, terza parte in una settimana, voi non vuoi, comunque veniamo da tre mesi abbastanza tosti a livello di numero di partite e quindi ci sta di essere meno lucidi, ma di concedere qualcosa in più anche se non mi sembra che abbiamo concesso più di tanto, penso che sia una cosa normale. Facendo un consultivo dell'anno, siete la coppia centrale tra i più forti, date la mano della Serie C, nonostante tutto penso che non possiate dormire sonni tranquilli, perché in panchina ci sono due centrali che possono sostituirvi tranquillamente, ecco quindi in quel ruolo avete la concorrenza. Certo, ma le squadre che vogliono stare lassù, magari chi gioca meno deve mettere in difficoltà chi gioca di più, perché se no uno durante l'allenamento è sicuro di giocare, magari salde da sotto toro, salde da sotto ritmo, invece le squadre che vogliono stare lassù devono avere 20 giocatori che quando li metti in campo non devono fare il piaggio di chi gioca, quindi Bollini e Bursicotti quando hanno giocato hanno fatto benissimo e in questo momento il Mise sta facendo giocare noi, ma sa che se deve avere bisogno oppure se farà altre scelte, chi c'è chi è in panchina fa sfondante del vero, giusto così. Oggi chi era il più difficile da mancare? Oggi? Un microfono? Non lo so perché era il più difficile da mancare. La domanda un po'... Tra poco più. No, 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 siccome allora hanno avuto anche delle opportunità dove voi in difesa, cioè da voi siete distritte nella chiusura in maniera tempestiva, cambia la domanda, chi vi ha dato più da fare insomma? C'era Sorrentino, era un attaccante fisico, proteggeva palla, Provenzano, un po' più di qualità, e poi è uscito dopo 30 minuti, ma diciamo che nella normalità, sì. Comunque è bella anche la vostra intensa, in campo sicuramente è importante, sì sì, sicuramente, è quella lì che fa la differenza. Va bene, a posto? A posto. Grazie. 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 Grazie.